Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Le foto su Twitter di Manuel Bortuzzo con l'ex fidanzata, Federica Pizzi, scatenano i fan, ha lasciato Lulù per tornare con lei? Ha fatto molto rumore l'annuncio di Manuel Bortuzzo, che ha confermato la separazione con Lulù Selassie dopo appena un mese dal termine del grande fratello Vip L'ex nuotatore ha rilasciato una dichiarazione per spiegare la fine della relazione con la principessina In questo mese, dal termine del GFV, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate Le parole di Bortuzzo, purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori L'atleta, paralizzato dal 2019 dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, ha poi voluto ringraziare tutti coloro che avevano creduto nella love story tra lui e Lulù, che però è rimasta solo una parentesi bellissima Dal canto suo, Lulù ha puntato il dito contro la famiglia di Manuel, che a detta della principessina avrebbe fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia Ma cosa c'è dietro questa rottura? Quali sono i motivi che hanno portato alla separazione tra i due ex-geffini? Bortuzzo beccato con l'ex, ritorno di fiamma o amicizia? Ai tanti fan della principessina è venuto più di un sospetto dopo aver visto alcune foto su Twitter con protagonista proprio Manuel Bortuzzo Nelle immagini circolate sul social, infatti, l'atleta compare assieme alla sua ex fidanzata, Federica Pizzi Stando a quanto circolato in rete, pare che Bortuzzo abbia passato la giornata assieme alla sua ex, subito dopo aver comunicato la separazione con Lulù In molti, specialmente i fan della principessina, sospettano che il vero motivo che avrebbe spinto Manuel a mettere fine alla storia con la Selassie sia proprio il ritorno di fiamma con Federica Pizzi Tuttavia c'è anche chi sostiene che tra i due ci sia ormai solo un fortissimo legame di amicizia D'altronde, in molti ricordano quanto avvenuto durante il grande fratello Bip, con la lettera scritta da Federica Pizzi che ha commosso tutti Chissà come la prenderà Lulù Selassie, che già aveva attaccato duramente i familiari di Manuel Bortuzzo, ritenendoli responsabili dell'allontanamento tra i due Hanno cercato di metterci contro, ha detto la principessina, queste persone non si sono mai tolte, hanno cercato di metterci contro e ovviamente non sono persone della mia famiglia, perché sapete che la mia famiglia appena conosciuto Manuel hanno avuto un affetto per lui e ha agito con buone intenzioni Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao